Onorevole Presidente, onorevoli grazie dell'invito, grazie della possibilità. Cosa hanno determinato gli eventi alluvionali sull'Isola Dischia? A voi è già noto, l'ha riportata la stampa nazionale e internazionale. Casa Miccio Laterme è in ginocchio, l'Isola Dischia è in ginocchio. Abbiamo avuto 12 vittime, la maggior parte dei quali minori, con un neonato di 22 giorni. E' una ferita profonda che non si rimarginerà in poco tempo e della quale fino ad oggi vi siete già fatti carico ed è con sincera commozione e gratitudine della comunità isolana che io vi ringrazio. Oggi non dobbiamo abbandonare Casa Micciola, perché Casa Micciola non è nostra, è un patrimonio dell'Italia e del mondo per quello che rappresenta e è rappresentato all'interno dell'Isola Dischia e nel panorama turistico nazionale e internazionale. Grazie.